Si torna da Messina con un pareggio importante in un campo che ha dimostrato Messina di valere la posizione di classifica, però la Juve Stabia in alcuni frangenti si è avuto la sensazione che potesse fare il colpaccio, poi va bene. In questo momento chi si contenta possiamo dire gode? Siamo contenti del risultato di Messina perché alla fine abbiamo portato a casa un punto importante per noi. Poi adesso è passata la partita di Messina e adesso ripresa la partita di casa. Secondo me dopo tanti parigi che abbiamo fatto adesso noi ripreserò una squadra forte in casa e speriamo che noi riusciremo a vincere questa partita in casa. Per quanto riguarda il prossimo impegno, hai sentito sia per il discorso che adesso bisogna vincere come dicevi tu, ma è anche un derby. Fra l'altro con una squadra, mi detto, che gioca proprio bene. Se ci mettiamo i punti di realizzazione sarebbe il credenzione nobile della classifica. Questo è il vostro impegno da prendere con le dovute precauzioni. Giustamente questa partita per noi è una partita importante, perché dopo tanti risultati pareggio, perché questa partita è una partita che abbiamo bisogno di vincere. Però lo sa che non è facile, non è un mancato rispetto ai ragazzi, però lo sa che noi deve essere più la squadra forte in casa. Per quanto riguarda il rendimento della Juve Stabia, sotto gli occhi di tutti, è quello migliore fuori casa. Questo vi deve spingere di più a ottenere qualcosa in più in casa, ma questa pressione, come diceva anche Polito, può essere un danno per il gioco? No, secondo me non c'è pressione. È normale, ti caccio la casta da mare. Chi deve venire qua come avvisato deve avere paura di scendere il campo. Speriamo, dai, noi lavoriamo in settimana per stare bene sabato e speriamo che noi riusciano a vincere questa partita, che non è facile. Però per noi è una partita importante, come dicono tanti tifosi, che basta pareggio, non è se voglio che vincere. Per quanto riguarda l'andamento fisico, la situazione fisica vostra, come state? Perché poi, ecco, lo diciamo sempre, gli alibi non ci devono essere, però giocate sempre gli stessi. E anche a Messina si è visto un certo calo, soprattutto nella seconda metà parte del secondo tempo. Dopo che De Rizio aveva un po' sistemato la situazione, però di nuovo poi il Messina ha preso un po' il sopravvento. Giustamente lo sai quando gioca solito 11, però secondo me il calo non è un discorso di calo. È normale che adesso abbiamo bisogno di tutti, come diceva te di De Rizio, siamo contenti che lui è entrato al campo e ha dato la male alla squadra. Quella è una cosa più importante per noi. Però la cosa più importante adesso è pensare a questa partita che giochiamo sabato, che è debì, però è una partita che noi andare a sabato con la voglia di vincere. Ecco, innanzitutto bisogna fare anche i complimenti alla squadra, perché per quanto sia un risultato privo di Reggi, è un risultato che comunque fa meglio la due stabbia, che a Messina un risultato insomma importante, è basato su una difesa eccezionale, contro una squadra che, scusate il gioco di parole, intende rinascere, come dice stesso il nome della squadra rinascita a Messina. Eppure, come ho già detto al tuo compagno un attimo fa, è evidente che manca, che manca, almeno secondo la maggior parte di noi, la costanza per quanto riguarda il gioco. Qual è il tuo punto di vista rispetto al tuo lavoro? Secondo me adesso è normale che tutte le squadre vogliono fare il gioco per nascere, però lo sai, nel calcio a volte, secondo me con la più vittoria, viene più anche la fiducia di giocare più. Adesso abbiamo bisogno di punti. Adesso, come che adesso, una cosa più importante per noi adesso è pensare partita su partita a dare tutto il campo. Però è meglio giocare bene, anche vincere. Però se in questo momento adesso è per portare i tributi a casa e nei tributi a casa, non c'è il cambio del calcio. Ecco, appunto parlando di punti, la via di Stabia non vincere in casa dalla partita contro il Catania. Per quanto riguarda l'andamento in casa, della squadra, può essere che influisca anche il fattore spettatori, che come molti di noi stanno parlando e riparlando, diciamo che lo Stato ultimamente è più semi-voto che semi-voto. Pensi che comunque possa rifiutare la squadra? Secondo me alcune partite che abbiamo impareggiato è come fosse una vittoria, però adesso lo sa che appare che sempre la partita non fa bene alla squadra, soprattutto per il nostro obiettivo. E una cosa più importante adesso, come dice io sempre, è la partita, pensiamo a partita su partita. Abbiamo tre partite importanti fino a Natale, che questa partita contro Ischia, che non è facile, però il nostro obiettivo è per dare il massimo e durante l'allenamento così la domenica siamo al massimo per portare questa vittoria a casa.